c'era una cosa che non sono mai riuscito a fare cioè di farlo in ascensore ridevo prima non avevi coraggio era troppo attenzione perché già in ascensore io provo tornando alla timidezza già non so se devo dire buongiorno se inizia a dire… quindi già la situazione in ascensore è imbarazzante senza perdere già è imbarazzante pensa se io so che potrei scorreggiare non l'ho mai fatto non è mai partito il suono cioè in ascensore non riuscivi beh lì quel video lì che citato poi aveva fatto un bot aveva fatto un bot ed era ascensore si chiama scorreggere niente non ho avuto il coraggio mi imbarazzavo cioè io appena entravo vedevo già le facce di queste persone mi…